sì ciao a tutti ragazzi da studio camorrina ben ritrovati sto per percorrere il trajetto che mi porta all'istituto turoldo è piaciata la mattina svegliarsi sentirsi amati accolti da delle persone appena conosciute dov'è è un'aurea che coinvolge l'esistenza umana durante questo percorso noto veramente quanto è bello tutto ciò e quanto è veramente stupido il concetto dell'umano della rivalità nell'invidia delle calugne siamo in un mondo così rock si big bang nello stesso tempo nella sua irregolarità c'è un'area di perfezione come se la vita in sé ama noi e in questo amare noi noi dovremmo sviluppare questa energia che ci permette di stare bene con noi stessi regalare la luce che è dentro di noi grazie di tutto ragazzi un abbraccio un saluto da studio camorrina ciao